Ciao a tutti! Hello folks! Hello my name is... Bonjour a tout le monde! Hola a todos mis amigos españoles Especialmente in Italia Volete sapere perché Facebook diventerà un posto migliore? No! Ma prima mi presento Mi chiamo Amos, ho 22 anni e sono un designer, speaker, lufonico Art director, spizzero Lavo, pulisco, cucino, faccio la spesa, tiro E quando capita sembra di essere nel mezzo di un duello tipo quello di Harry Potter e Lord Voldemort Harry Potter Hai fatto il bucato? Hai stirato? Vagini controlla se ci sono piedi Hai fatto anche il colletti e le maniche? No? Hai dimenticato l'amido! Sì, è quando stiro stiro con il f***o Ma veniamo dunque Il prossimo 31 ottobre 2011 Uscirà il mio primo libro Che si chiama L'Oscar di cioccolata Art Rock Hallelujah Art Rock Hallelujah Art Rock Hallelujah E anche mia madre dice che dovrei concentrarmi un peso di più su una sola attività lavorativa Allora, lo smetti di fare c***o? E poi concentrarti sul solo lavoro? Tornando al libro e il perché Facebook diventerà un posto migliore Posso solo dirvi che il mio libro parla della turbolenta scalata Al successo di uno studente intraprendente che segue i suoi sogni Lasciando i suoi effetti e tentando il tutto per tutto Ma che c***o Adulto Per diventare un regista di fama allo... Per diventare un regista di fama allo... Per diventare un regista di fama mondiale a Los Angeles In poche parole è uno studente che va all'estero a studiare Compratelo perché risponderà a tutta una serie di domande Sulla vostra vita, sentimentale, economia domestica Qualsiasi cosa Come fermacarte Fermaporte Sottopentola Sottopiatto Potrebbe anche che rilassi un ottimo libro da parte Inoltre Tornando al fatto che Facebook diventerà un posto migliore è stata creata in Facebook una pagina fan dell'Oscar di Cioccolata dove voi potrete rimanere aggiornati su tutte le novità estrati dal libro lo sport pubblicitario poster e voi potrete cliccare su mi piace I like che felt me me gusta e j'aime non sono proprio sicuro che in francese si dica così va e avete la possibilità di cercare anche delle coppie dunque per ora vi saluto e ci rivediamo presto io e te siamo una cosa sola nessuno ci separerà mai quanto tempo ti ho cercato per così tanti